... Ma cosa sto il rumore? Ma cos'è? Ma cazzo, mi digli che stai registrando! Ma no, sai, intanto mi se ne entrava. Mettetevi tutti in blocco listo, così dopo si denunciano. Io li ho già messi. Io li ho già messi tutti in blocco listo, per esempio se ne frega. Stai qui a tutti in blocco listo, ragazzi che giriamo e vediamo che riusciamo a farlo. Guardi, 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 guardi. Guardi, 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 guard è l'armamento! è l'armamento! Ah, non è cominciato! mamma mia, che lecce! l'ha vinto tutti, ah, guarda! mamma mia! se no, resto! non tu, ma adesso a vedere! ho cercato di usare le fumote, forse ci riesci un po'... bomino! fuori! fai e scofio! éstcufio! il vi questo è un'impecie non è un'impecie